Bene ragazzi, qui dietro di Compenumbra Necrolog Allora facciamo continua, continua, sì sì, vai tranquillo Vi faccio vedere che cosa bisogna fare Scusate se Penumbra non è arrivato per un sacco di tempo in verità In effetti non è arrivato per tipo... Una settimana forse addirittura Non lo so, però è un sacco di tempo Scusatemi ragazzi, non è stata colpa mia ma... Fra le live che mi hanno dato un sacco di tempo L'ultimo esame che avevo fatto Ora poi vabbè, il prossimo sarà Nella... Tipo il 19 luglio, quindi nella seconda metà di luglio Con tutte queste cose qua non ho più potuto fare video su Penumbra Ma ogni volta che potevo facevo live così Quindi, il gioco non va O forse sì, ok Allora, mi sono informato perché ovviamente mi ero di nuovo bloccato E ho scoperto che cosa bisogna fare Scendiamo di qua come delle... Oh bene, va bene Volevo usare la scala in verità Credo che si sia visto perché stavamo cercando di afferrare Guardate qua, c'è un cassetto che non ho visto con una fottuta chiave Ok, adesso però con questa chiave so solo che bisogna andarci indietro Ma non so che cosa bisogna farci in verità Quindi andiamo a vedere Allora, forse non vorrei che si dovesse aprire la porta questa qua Non vorrei... Questa merda Io salvo È questa la mia paura ragazzi Che si debba aprire questa porta qua Merda Questa è la mia grande paura Levati, d'orti Allora, vediamo Cosa? No, no Oh mio Dio Che schifo No, no Oh, che brutta cosa che ho fatto Che brutta cosa che ho fatto Brutta scelta, brutta scelta Sali su Sali su Oh, ok No Sali Oh mio Dio questo gioco Dov'è? No ragazzi Che cosa brutta Vaffanculo Ma non c'era una porta anche qua E infatti c'è una porta C'è una porta pure Madonna i frame di questo gioco Merda I frame di questo gioco ragazzi I frame di questo gioco Quanto cadono Mi sa che bisogna entrare in quella stanza ragazzi Dove cazzo è? Ragazzi Oh, no Sali Ok No Sali Oh Perché deve essere così brutto? Ok, si corre, si corre Si corre Frega niente Frega niente Ho purissimo Ho purissimo Ho purissimo Ho purissimo Ho purissimo Ho purissimo Non c'è più la porta Cosa c'è? Un cacciavite A cosa mi serve? A cosa mi serve un cacciavite? A cosa? Ah, ho capito a cosa Sì, ok Ho capito a cosa Ma No Sono amichevole Che schifo è il pisello volante Sono amichevole 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 Sono Michele Sono Michele Corri Ok Credo che non possa salire le scale ragazzi Credo che non possa Posso curarmi in qualche modo Sì Invece no Ah ok sì Ah ah Credo che si è vista per sto coso Ok Mio dio ragazzi però Brutta cosa Entra vai entra Ci abbiamo fatta Sabe figo anche farne il live questo Credo sia troppo buio per la live ragazzi Purtroppo Sarebbe figo ma è troppo buio In live ci limiteremo a fare gli indie E cose così Però questo sarebbe figo Perché comunque paura la fa Adesso che incominciano a esserci i mostri Fra l'altro Solo che appunto È troppo buio secondo me È un sacco buio E aumentare la luminosità Toglierebbe un po' di effetto horror Ovviamente quindi Va bene comunque andiamo Paura Ok no batterie Non le devo mettere Ok almeno qua c'è luce però Ma cazzo Merda muoio Merda No 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 Aspetta Cosa c'è qua dentro Cos'è Cos'è sta roba Merda Ho capito Cos'è Cos'è che posso fare Qua muoio io qua Ci muoio No aspetta Cosa c'è lì Ok forse mi sono Ok mi sono infilato Aia La morte è l'ultima Incognita Incognita Tan 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 Ok quindi Ah ma aspetta Sono passato oltre O Ah no ok Che cosa bisognerà fare Osserviamo la stanza Ah c'è un altro Cosa coperto Ok Potremmo dover Aprire questo Coso E vedere cosa Magari Qua dentro c'è Altra roba Eh la mano Cosa mi serve Allora No qua non posso Qua non posso Qua c'è un affare Oh cos'è 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 La mano Ok ce l'ho Tieni Madonna un genio Olè Così proprio Dammi la mano Vieni con me Geralda Ok Te Puoi essere Geralda e basta It's locked Questa no però Però Ah no che It's locked E mica è due ore Che me lo sta spammando Davanti agli occhi Io non lo stavo vedendo Ok Questa It's locked Vediamo qua dentro Cioè devo usare Il meno possibile 59 gradi Fahrenheit Eh non so Ok Uno Uno si è Uno si è mutato Dice Questo cosa serve Eh Alza la su Alza Alza Non la alza Ma quanta fatica Non la alza Ragazzi Qualunque cosa Faccio col mouse No Credo di non poterla Alza Credo sia bloccata Il soggetto Non è stabile Parli di Il signor Del monopoli Anche qui Vediamo se cambia qualcosa Usando questa mano Ah ok Criticamente malato Sai com'è Una mano Morta Nel senso che Palpa i culi Apriamo la porta Con una mano Non nostra Perché siamo pro Questo si può spostare No Questo no Questo Questo qua si rompe C'è dentro Dell'audano No Cose 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 Scatole In frigorifero E un barile Un barile Un barile Di barili Ok Prendiamo la mano Magica E andiamo via Credo che qua non ci fosse un cazzo In verità Uh Questa è aperta Finalmente Merda Quanto buio Però Cosa c'è qui No Non voglio Non voglio sapere Non voglio sapere Ok Che poi In verità Si potrebbe Da davvero Fare In live Questo Sapete Boh Ci penserò Louis Morrison Envistan Greer What Qua c'è una scheda male No Vabbè Mi sa che conviene Farlo qua Ah Ci vuole un nastro Ok Uh C'è qualcosa qua Un libro E basta Quel cosa Non posso spostare Questo non posso Il cacciavite L'ho perso Ovviamente Ovviamente Perché ovviamente Sapete che sono Cacciaviti Usa e getta Non mi Non mi interessa Bene Vai via C'è un cazzo Lì c'è una scritta Sul morano C'è una matita volante E c'è un salvataggio E c'è un salvataggio Ah Vedo un uomo Ed è stanco E vedo un salvataggio Stanco Ah Scusate E basta Qui non c'è niente Qui non c'è niente Ok Questa quella stanza È utile solo per il salvataggio Qua ci siamo già stati Esperimenti sugli umani Bene 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 Che cose belle Felici Qua Ah C'è anche in penumbra Black Black è sta cosa No Che dava Dai Dai che in penumbra Mi sembra che me ne avessi data Una Se non ricordo male A di là Ce ne andiamo Vediamo cosa c'è dentro questi Gentiluomini Non c'è niente C'è niente Lattine Ok possiamo andarcene Oddio It won't bugge 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 Aha The shelter Impatto del freddo È un documento di testo Però No 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 Che cazzo fai Eh come Come faccio Invio Floppy disk Ma come cazzo Ah forse con il click sinistro Wow Mi muovo con vase ma Cosa cazzo hai copiato Non lo so E cos'è quest'ultimo Cryo chambers Control ex Mi fai cambiare No Come Come Oh Access to the cherry zone Va bene E ora Ok Ora che L'accesso su On Intanto Cosa minchia Ti sei copiato Note No Ok mi serve il codice Per la porta a pressione Altrimenti non posso entrare E cos'è che ti sei Ricopiato prima Ah Impatto del core Vabbè ma chi se ne Scusa Che cazzo ti sei copiato Va bene Io non ho visto il coso Per il codice Comunque Ma cazzo Ma l'ho appena aperta Ah non è che ho aperto La cella questa No Perché questo gioco Deve essere così Ah questo Salve Come niente di interessante E quindi Ah aspetta forse posso Eh no Eh Scusa eh E scusa eh Quindi E quindi Gli ho aperto la cella Ora mi chiudo con lui Basta Basta Fa un culo mondo Sono hipster E mi chiudo con i cadaveri E quindi Scusa questo qua Che l'ho abbassato Temperature 59 Che ora entro qua Avvia tutto Geronimo Avvia L'esperimento Della morte E qui Ah Tutte ste porte Sono aperte adesso E' vero Scusate Sono scemo 14 gradi Uh ce n'è un altro qua Ok Giù non va Aia Silenzio però C'è C'è qualcosa Nella tasca E prendila E prendila Perché non la stai prendendo amico Ah ok Hai preso Un floppy disk Ok Quello da inserire Nelle cazza fa Bene Chiudi Ti porta Ragazzi Senza guide Senza guide Madonna Un genio Allora Qua cos'altro abbiamo Stessa cosa Stessa cosa Se io faccio questo in su Si apre quella Ok Vediamo cos'altro c'è qui Niente Bene 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 Ok Facciamo che Queste porte Abbastanza Inutili Le vado a chiudere Perché sono appunto Inutili Questa era anche chiusa Vediamo anche questa qua Giusto per finirle tutte E niente interessante Ok Scusate se ho fatto Quella faccia Inquettatissima Ma Lo ero Quindi Ok Andiamo qua dal pc Però prima salvo un secondo Ok Ora abbiamo il floppy Da inserire dentro il pc E' bello che noi ci stiamo sbattendo Però Di ciò che dicono i floppy E quant'altro Ok Tieni Si Messo Ma come Not found Ma tua madre Not found Allora Facciamo così E facciamo così Olè Adesso si Olè Forbidden Territory Questo file è corrotto I codici per lo staff Oh mio dio Ok Se lo sarà scritto Eh infatti Ok bene Ok Chiudi tutto Chiudi tutto Chiudi tutto Bene Ci vuole Ok Ora abbiamo il codice Ma Non ho trovato Nulla Su cui inserire il codice Comunque Dove cazzo Ce lo metto a inserire il codice Dove Dove minchia Dove lo devo mettere Uh Questo no Dove è che devo mettere il codice Signori della corte Aiuto No Lui è inutile Forse qua qua dentro Mi sono dimenticato qualcosa Ah Si può Ok si può entrare qua adesso Che però È da Dove sono arrivato E non credo sia interessante Bonco Comunque ragazzi Questa parte può anche finire qua Perché ci vediamo nella prossima Bello ragazzi